Tutte le concezioni umane, da qualunque parte vengano, hanno il buono ed il cattivo. Bisogna saper assimilare e prendere tutto il buono e offrirlo a Dio ed eliminare il cattivo. Pace e bene a tutti quanti voi, amiche, spettatrici e amici spettatori di Padre Pio TV. Oggi incontriamo un pensiero di Padre Pio che è preso dal volume di Alberto Del Fante per la storia Padre Pio da Pietrelcina. In questa riflessione Padre Pio ci dà un segreto per vedere crescere insieme al modo in cui Gesù spiega nell'Evangelo il grano buono e l'erba cattiva, cioè la zizzania. C'è sempre un momento in cui questa erba cattiva potrà essere eliminata. Questo momento provvidenziale lo conosce chiaramente il Signore. Non spetta a noi voler da subito o con ansia o con premura eccessiva voler separare tutto ciò che ci sembra buono da quello che invece è il prodotto di un seme cattivo. Ascoltiamo questa riflessione di San Pio. Tutte le concezioni umane da qualunque parte vengano hanno il buono ed il cattivo. Bisogna saper assimilare e prendere tutto il buono e offrirlo a Dio ed eliminare il cattivo. Sappiamo come il processo di assimilazione sia qualcosa di molto delicato. Non si riesce ad assimilare veramente bene un cibo se abbiamo compiuto una masticazione frettolosa, se magari non abbiamo anche dentro il nostro apparato digerente tutto quello che secondo la regola naturale ci consente di far diventare ogni nutrimento una stilla di sangue prezioso ci fa crescere proprio in base a tutto quello che noi ingeriamo. Assimilare è un processo lento che ha bisogno anche dei suoi tempi. Padre Pio prende proprio questa parola per indicare la necessità di nutrirci di tutto quello che a noi sembra buono che potrebbe essere anche una bontà oggettiva, una bontà riconosciuta, generalmente accettata da tutti perché in questo senso è importante avere una capacità di discernimento, il senso buono di chi comprende come fare per sezionare, per separare anche l'elemento negativo, l'elemento cattivo. Quando ci accorgiamo di non possedere tutti gli strumenti giusti è meglio non prendere nessuna conoscenza. A volte noi ci impregniamo di conoscenze sbagliate, anche solamente per curiosità proviamo a frequentare certe persone, certi ambienti. Padre Pio le chiama le concezioni umane che sono insieme sempre in qualunque ambiente siano cresciute, proliferate, portatrici di bene e di male. Per ricevere qualche consiglio buono rivolgiamoci ad un padre spirituale. Chiediamo a qualche persona fidata se può venire in nostro aiuto. Non è mai andata in crisi la genuina tradizione della paternità spirituale. E Padre Pio che ha avuto una schiera numerosissima di figli e di figli spirituali ce ne offre un esempio concreto. Buona e santa giornata a tutti quanti voi. grazie a tutti.